Parte domenica 7 luglio dal Colle dell'Ist la settima edizione della rassegna teatrale Voci dei Luoghi, Guerra e Resistenza 1940-1945, letture e musica 2013, nel settantesimo anniversario dell'inizio della lotta di liberazione. L'iniziativa promossa dal Comitato regionale Resistenza e Costituzione con il Comitato della provincia di Torino e l'UNCEM è stata presentata a Palazzo Lascaris. Nei piccoli comuni, nei piccolissimi con nomi straordinari, Boccioleto, Alice Superiore, Tagliolo, Monferrato, per un momento di riflessione, di ricordo di quella che è stata la resistenza alla lotta di liberazione nella nostra regione che si è svolta principalmente nei piccoli comuni, nella vallata e nelle montagne. Per non dimenticare, per ricordare quello che è stato anche in un momento di leggerezza e di vacanza come il mese di luglio e di agosto. Sono 17 le rappresentazioni che toccheranno tutte le province del Piemonte, coinvolgendo le compagnie teatrali, Assemblea Teatro, Accademia dei Folli, Tecne e Compagnia 3001. Parlare di resistenza d'estate, fuori da un contesto celebrativo del 25 aprile, è già di per sé una cosa abbastanza curiosa e interessante dal mio punto di vista. Sono spettacoli che parlano di resistenza e l'affrontano in tutti i modi. Sono spettacoli che non devono essere per forza pesanti e commemorativi, ma che parlano della nostra storia. Infatti noi andiamo ad abitare, con i nostri spettacoli, dei luoghi che sono particolarmente rappresentativi di questo evento. Ecco